Bentornati in un nuovo Tessila News. Immaginate un filato che catturi l'essenza della musica in ogni sua fibra e che si va ad unire con la magia dei colori. Una sinfonia di colori che si mescolano tra loro, dando vita ad un filato in misto cotone davvero unico nel suo genere. Ed eccolo qui il nostro Santana, un gomitolo sfumato in misto cotone. È composto infatti all'85% da cotone organico e 15% di poliestere. Il Sinatra si presenta in un gomitolo da 100 grammi con una lunghezza di 200 metri. I ferdi degli uncinetti consigliati per questo filato sono quelli del 3 e del 4. Per la manutenzione dei capi creati con questo filato consigliamo di non lavare ad una temperatura superiore ai 30 gradi. È sconsigliato il candeggio ed è possibile utilizzare detergenti neutri, eccezion fatta per il tetrafloretilene. È sconsigliato lo stiraggio ma anche l'utilizzo dell'asciugatrice. Raccomandiamo di asciugare il capo in posizione piana, evitando anche esposizioni dirette al sole. Come vediamo si presenta come un gomitolo sfumato con diverse colorazioni. Andiamoli a scoprire nel dettaglio. Il primo che vediamo è la colorazione Curacao, un'esplosione di colori che vanno dal lilla, il turchese, il verde acqua ed anche un colore più tenue come il panna. Passiamo poi al bellini. Qui si mescolano i toni del blu, del verde, del rosso e del verde acqua. Un mix di colori più vivaci che salta ai punti del blu. Passiamo ora al muito, un mix di gialli e di verdi che si mescolano perfettamente creando varie nuanze sfumature. Con la colorazione tequila abbiamo un mix perfetto di quelli che sono i colori pastello per eccellenza, quindi il lilla e il salvia passando per il lime ed il rosa. Vediamo ora quella che è la colorazione più scura, il margarita. Qui si fondono varie tonalità di blu e di grigio. E per concludere il Fizz, un nome vivace ed allegro come i suoi colori. Varie tonalità di verde che si mescolano al giallo. La caratteristica principale di questo filato resta la leggerezza e la resistenza. Grazie alla sua composizione, alla particolare texture e la sfumatura davvero unica, i progetti per cui potrete utilizzarlo sono davvero diversi. Perfetto sicuramente per capi estivi, quindi leggeri e traspiranti. Perfette per le sere d'estate un po' più fresche. Pensate ad esempio anche agli accessori per la spiaggia, dai copricapi, copricostume o borse per riporre tutti quelli che sono gli oggetti che vi occorrono. Perfetto anche per l'home decor. Pensate ad esempio a dei cuscini che potrete abbinare con lo stile della vostra casa, copertine leggere o a delle coperte perfette per i picnic. Questo filato inoltre sarà perfetto anche per creazioni per i più piccoli. Non vi resta quindi che lasciarvi trasportare dal ritmo di questo filato e dare vita alle vostre creazioni colorate. Io come sempre vi aspetto al prossimo Tessila News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social. La pagina Facebook meglio di Maya, il nostro gruppo ufficiale dove condividere con noi tutte le vostre creazioni, TikTok, Instagram e Pinterest. E non dimenticate il nostro blog. Al prossimo Tessila News!